A Forum HR, Ope John Mattis ha parlato di futuro e della necessità di adattarsi, di cambiare. Sì, l'idea di partecipare a questo forum ci è venuta perché riteniamo di poter essere attori protagonisti del futuro del lavoro in Italia. Ricordiamo a tutti, siamo agenzie autorizzate per il lavoro del Ministero e quindi chi meglio di noi conosce, sa, vive tutti i giorni e parla di lavoro. Un futuro sicuramente interessante, noi vediamo una ripresa soprattutto negli ultimi sei mesi a questa parte, sia come Open John Mattis, sia come ASSO, l'associazione di categoria che racchiude 20 agenzie, crediamo di poter dare un contributo fattivo e attivo. Come vede il mercato bancario? Il mercato bancario sicuramente è un mercato che dovrà prevedere dei cambiamenti, sempre meno sportelli, sempre meno figliali, ma questo non vorrà dire necessariamente una riduzione del personale, forse una riqualificazione, forse un'attività rivolta più alla vendita di prodotti e di servizi che non siano esclusivamente quelli bancari. Non necessariamente un cambiamento necessita o ha bisogno di riduzione delle risorse umane, forse più di una riqualificazione. Quale può essere il vostro supporto alle banche in questa evoluzione? Il nostro supporto può essere quello di aiutarli nella formazione professionale al loro interno. Il settore ha una disponibilità liquida di circa 200 milioni di euro attraverso il nostro fondo di formazione che si chiama Formate. Questi denari possono essere sicuramente messi a disposizione anche delle banche per aiutarli a fare dei corsi di formazione professionalizzanti e cambiare magari il destino dello sportellista. Grazie.